Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Patrizio e ti faremo un video dove stiamo giocando a Snake.io Come potete vedere questo non è il classico di Snake.io, lo conoscete ragazzi Siamo in una mappa diversa, cioè in una mappa dell'evento Abbiamo raccogliato questo pezzo del cibo Siamo in una mappa diversa